Salve a tutti ragazzi, sono sempre Imanis, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo ragionati qui con The Journey Probabilmente questo potrebbe essere l'ultimo episodio di questa avventura Arsenal Everton intanto, iniziamo con il campionato, con la Premier League Cerchiamo di risalire un po' la classifica, perché nell'ultimo episodio in realtà avevamo perso, secondo me, troppe partite E poi vedremo come si svilupperà comunque la storia Attenzione alla palla per Lennon, sì, bella di nuovo per Barry Barry, in mezzo per Le, mamma mia ragazzi, come abbiamo spiegato questa azione Attenzione ad Hunter, gran palla recuperata, Hunter, prova ad entrare in aria Vediamo chi c'è in mezzo, non c'è nessuno, Hunter, prova a sfoderare il destro Mertesacker lo molla, poi Hunter, Lennon, ancora per Hunter, Lennon era in fuorigioco Attenzione ad Hunter, recupera un gran pallone, può andare Hunter, mamma mia, c'è veloce De Bouchy Hunter deve tornare indietro, chi c'è? Al suo cospetto, Cleverly, ancora Hunter Ha fermato da Sanchez, Hunter, lotta, Barclay Per Hunter, c'è che miracolo Finisce qui ragazzi, stavamo attaccando, l'abito ha deciso di fischiare 0-0 comunque è un buon pareggio, anche se avremmo sicuramente meritato di più Signore ci siamo eh Everton-Liverpool, finale di FA Cup Sono curioso di vedere se sarò titolare, sono titolare ragazzi Quindi io mi ero fatto buttare fuori nella scorsa partita È inutile dire quanto sia importante questa partita signori Cioè finale di FA Cup Wembley Stadium La sentite? Questa è la magia dell'FA Cup Questo è quello che vi aspetta oggi Passione, lacrime e sangue Oggi ragazzi Potrete esprimere tutto il vostro potenziale Oggi avrete la possibilità di vincere l'FA Cup Restate uniti Se crederete in voi stessi ragazzi La vittoria sarà vostra Vincete E diventerete leggende Oggi Dai raga porca puttana Un accenno di pelle d'oca Voglio vincerla sta coppia Guarda che fa la fila per toccare il mio pallone E' un grande grande Luca Ti ho tornato in posto Vecchio mio Sei sempre un grande Forza Forza Ancora sto gare at walk Non vedo l'ora di vedere la tua faccia quando alzerò la coppia Ancora parla, è incredibile Ti parliamo dopo il fischio finale Mamma Vuoi sapere perché ero diventato tuo amico Per sfruttare gli agganci della tua famiglia Non eri niente E infatti Non vale nemmeno la metà E infatti Liverpool probabilmente tipo retrocesso nel nostro campionato Sono teso raga Devo assolutamente vincere questa partita Devo anche segnare e fare il dito medio a Gareth Anzi a Walker Miraias Per Hunter Non la stoppa bene Alex Però entra in aria Hunter Hunter davanti al portiere Hunter Suka Walker Suka 1-0 Everton Alex Hunter con un mancino potentissimo Guarda qui non ci prende nessuno E bocchiamo Karius Dovrebbe essere Karius il portiere del Liverpool Occhio raga Questi spassi Milner Traversa Godo Raga oddio c'è Coutinho Raga dobbiamo stare più attenti però Più compatti ma ne Grande chiusura Poi Hunter Per McCarthy Andate voi raga Bernard Si lancia McCarthy Sì 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 De Luffeu De Luffeu Vai con calma Mettila adesso Mettila bella Klein Chiude Mamma mia raga c'è una tensione Tensione grande ripartenza dell'Everton Con Hunter Se ne va Se ne va Hunter C'è De Luffeu Sì Deu Goleman Bellissima la palla per Hunter Poi c'è De Luffeu Sì signore Sì signore 2-0 Ma che gol è Che gol è questo Che gol è 2-0 Everton Ma che azione Goleman Hunter E poi De Luffeu di prima 2-0 Everton Ancora Alex Hunter Che recupera il pallone Ancora Hunter Mamma mia Lucas Leiva Che intervento Goleman poi Ancora Hunter Ce la va a prendere Chi c'è in mezzo L'hai visto L'ho visto E McCarthy Che la vuole stoppare La vuole stoppare Poteva tirare subito Di prima di testa Fermate Coutinho Bravi Ragga Mamma mia Che parete che stanno facendo De Luffeu Poi per Hunter Si fa vedere McCarthy Di prima Per Barry Di prima Per Miraias Guarda di qua Guarda di qua Hunter Klein Che Diagonale ha fatto Non ho fatto in tempo A tirare De Luffeu Poi Hunter Hunter Porca troia Mi sto agitando Tantissimo Finisce qui Signori Abbiamo vinto La FA Cup 2-0 A Liverpool Incredibile Gol di Alex Hunter E Gerard De Luffeu Con assist Di Alex Hunter Abbiamo vinto La Coppa Signori Abbiamo battuto Il Liverpool 2-0 Adesso A Walker Gli faccio Veramente Un bel dito Medio Succa Succa In profondità Guardatele Come esultiamo Signori Non ci crediamo Bravi raga Bravissimi Ce lo siamo meritati Oddio Mi ha fatto Veramente Una gran partita Contro Arsenal Ci siamo Tenuti Per questa partita Ve lo dico io Fatemi vedere Vediamo se mi fa scegliere Se andarci o meno No No Io non l'avrei fatto Vi dico la verità Io non l'avrei fatto Vi dico la verità Ragazzi Non l'avrei fatto Perché Si è comportato Troppo male Con me Non si vede Come Mazziamo la coppa Però Ha portato fortuna A toccare la mia palla Il mister Non si vedeva mai Dovete essere orgogliosi Questo club I suoi sostenitori Sono tutti fieri di voi Oltre a quello che è successo In questa stagione Ricordatevi questo momento Perché questo È solo vostro Si Ma dal mister Come è contento Ci ha portato fortuna Dopotutto Tieni Se c'è qualcuno Che se la merita Più di tutti Oggi Quello sei Eh se Non ci credo Ci beviamo Due litri di birra Grande 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 Ciao Oh Papa Che ci fai qui? Tua madre Mi ha procurato un biglietto Per la partita Hai giocato bene Sono Tornato in Inghilterra Ora Volevo solo Rivederti Va bene Io? Sarà meglio Che vada Ti trovo bene Davvero Tua madre Ha il mio nuovo numero Ah però Proprio così Pesa questa Questa scena qui Cioè Pesa Nel senso Comunque Queste situazioni esistono Alla fine Dove un genitore Magari non è mai presente Alla fine del campionato siamo arrivati quinti ragazzi Quindi vuol dire europa league Che cos' Guarda Guarda come gioca quel vivo Come ha fatto a finire in premier È molto più agile mia nonna Io sono meglio Toccherà anche a te Io sono meglio Da sei meglio Da sei un carro attreste Sei un carro attreste Va e goditi questo momento finchè puoi Ti prenderai ad allenarti a mangiare insalate Prima che tu te ne renda conto Hai ragione Puoi aprire mamma Non vorrei distrarti dalla tua importante partita di calcio Ti voglio bene Oh Ciccia Ho vinto la FK Porca puttana Chi è? Come va con il tuo nuovo? Ovviamente Molto bene È solo che viaggio parecchio Parcellona la prossima settimana Amo la Spagna Paese bellissimo E voi due che cosa state facendo qui seduti? Non dovreste essere ad allenarti Da quando ti preoccupi per me Ma io mi preoccupo di tutti i miei clienti Da me devo parlarti i miei clienti Sono serio? Ho ricevuto proposte per voi Beh parliamone allora Dopo che avrò Ma come? Non è possibile Cosa? Cordacelo Ci sono delle novità Michael? Beh mi ha chiamato Jim Ha detto che voleva parlarvi Che cazzo? Ecco prendi Tieni Tieni Cerca di farci un buon prezzo Lo sai che non è una questione di saldi Beh diciamo che alla fine è grazie a lui anche se sono qui Che posso fare signor Batman? Chiamammi Andy Ehi volevo solo farti i complimenti Eri troppo impegnato con i videogiochi? Metti sul notiziario sportivo Ma di che cosa sta parlando? Continua a far parlare di te l'astronoscente Alexander Il suo nome figura nell'elenco dei possibili convocati per la nazionale Non è vero Una giornata da ricordare per la famiglia Non è possibile Non ci credo Non ci credo ragazzi Ah ok adesso mi danno la carta dell'Ultimate Team Però dice hai completato la prima fase del viaggio di Alex Hunter Quindi probabilmente faranno un contenuto aggiuntivo dove andrà a fare i mondiali Questa è una bella domanda signori Questa è una bella domanda Va bene quindi è finita È finito il nostro viaggio signore Vi dico la verità In quest'ultimo episodio In quest'ultimo episodio mi sono molto affezionato comunque In questi episodi mi sono comunque molto affezionato Ad Hunter Al nonno Al manager All'allenatore Anche a Danny Anche se è una pippa clamorosa E mi sarei aspettato magari uno svolgimento Migliore per quanto riguarda la questione di Garrett Walker Tutto sommato questo viaggio è una cosa interessante Che ha aggiunto FIFA Ma mi sarei aspettato qualcosa di più Vi dico la verità Però è un punto di partenza davvero davvero ottimo Signori io spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate Sicuramente con Garrett Walker avrei voluto parlarci Magari approfondire questa faccenda Ma forse ci sarà appunto una seconda parte di questo viaggio Magari che lo so su FIFA 18 Potrebbe esserci la seconda parte Non lo so signori Comunque fatemi sapere cosa ne pensate Lasciate un commento con il signore E ci vediamo al prossimo video signori Un saluto al mezzo alla prossima Ciao a tutti ragazzi